Ciao a tutti, io sono Zaccaria Sgighi di Sottosopra, qui con me ci sono il professore Daniele Ganser, autore del saggio Breve storia dell'impero americano, pubblicato l'anno scorso e appena uscito, edizione italiana per la faze editore. Buonasera. Buonasera. Con noi c'è il professor Aldo Giannuli, ricercatore alla Statale a Milano, blogger, saggista e direttore del centro studio Osservatorio Globalizzazione. Benvenuti a entrambi, iniziamo questa discussione sul volume professor Ganser. Inizio proprio da lei, professore. Com'è nata l'idea di questo libro? L'idea di questo libro è nata… beh, io sono qua in Svizzera, la Svizzera è un paese proprio piccolo, nel mondo abbiamo 193 paesi nel mondo, tra questi la Svizzera, l'Italia, la Germania, il Giappone, e io mi sono chiesto ma quale di tutti questi paesi è il più forte dal punto di vista militare, quale paese ha bombardato i più paesi alle spese militari le più alte? E questi sono gli Stati Uniti. Poi mi sono chiesto ma come siamo arrivati a questa situazione di oggi che per esempio gli Stati Uniti hanno soldati in Italia, 12.000, ma gli italiani non hanno soldati negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno soldati in Germania, ma i soldati dalla Germania non ce ne sono negli Stati Uniti. E gli Stati Uniti hanno soldati in Giappone, ma il Giappone non ha soldati in America. Dunque per me è stato veramente un interesse per la pace, un interesse per le guerre, e gli Stati Uniti sono chiaramente il paese che ha bombardato i più paesi nel mondo dal 1945 ad oggi. Guerra in Afghanistan, guerra contro la Siria, contro la Libia, contro il Iraq. Queste sono le ultime guerre che tanti si ricordano. Dunque di questo punto di vista ho cominciato. Sì, sono questi punti che sono punti critici, che possono mettere in difficoltà soprattutto trovare un editore disposto a pubblicarlo. Lei ha trovato difficoltà nel trovare qualcuno che pubblicasse il suo volume, il suo libro? La situazione è questa, che io sono adesso qua a Basilea in Svizzera e io scrivo in tedesco. Pubblicarlo in tedesco non era difficile perché ho già scritto un altro libro che si chiama Le guerre illegali. Questo libro l'hanno venduto centomilla volte. Dunque è stato un libro venduto tanto. E questo Orel Füßli, che si chiama la ditta, che ha fatto la pubblicazione qua in Svizzera, erano molto contenti che ho scritto un secondo libro, un terzo libro, perché si vendevano bene. Dunque, a dire così, non era difficile pubblicarlo in tedesco. Quel nuovo libro, Breva storia dell'impero americano, in tedesco, adesso l'hanno venduto 60.000 coppie, che per un libro di uno storico è tanto. Io sono contento perché noi, come ricercatori, siamo contenti quando c'è interesse, però in inglese non è ancora stato pubblicato. Lì è più difficile. Abbiamo cercato di trovare qualcuno che lo può pubblicare negli Stati Uniti, però è molto critico quel libro degli Stati Uniti e non abbiamo ancora trovato qualcuno che l'ho pubblicato in inglese, neanche in Inghilterra o in Australia. Grazie, grazie, professore. Ora vorrei una domanda al professor Giannuli. Nel libro, nel libro scritto dal professor Giannuli, troviamo anche riferimenti anche delle lezioni italiane manipolate dalla scia e in particolare fa riferimento a quelle importantissime del 1948. È vero? Questo è vero? Si tratta ormai di fatti acclarati? Ma capiamoci. Intanto siamo nel momento di trapasso sostanzialmente dall'OSS alla CIA e la CIA deve ancora consolidarsi in qualche modo. Ma comunque è il vecchio servizio segreto che poi continua. In realtà ci fu un pesante intervento americano e in particolare del servizio segreto dal punto di vista della pressione psicologica. Ci fu una campagna psicologica continua, intensa, che sicuramente ebbe un effetto sugli elettori. Dal punto di vista invece della manipolazione correntemente intesa, cioè stravolgimento dei dati, intervento nei seggi elettorali per cambiare i risultati e così via, non credo che ce ne siano stati più di quanti. Normalmente ci sono una certa percentuale di manipolazioni a livello soprattutto di seggi elettorali singoli. Di solito c'è, ma non tale da cambiare il risultato. Il vero intervento fu quello in termini di pressione psicologica. In un paese che, tenete presente, all'epoca non aveva ancora la televisione, aveva solo una radio, un emittente, con la grande maggioranza dei giornali schierati a favore del blocco centrista e che riceverono, questo sì, questo è acclarato, molto materiale per le loro inchieste e i loro articoli e anche questo ovviamente influì sul risultato finale. Sì, mentre i servizi segreti italiani svolsero o non svolsero un ruolo in queste vicende? Sì, ma sempre dal punto di vista della pressione psicologica. Ecco, io ritengo che onestamente la maggioranza del popolo italiano era su quelle posizioni. Non dimentichiamo che l'Italia era uscita da pochissimo, da una guerra civile, da una presenza come quella della Repubblica Sociale Italiana, c'era una forte pressione della Chiesa Cattolica che venne molto stimolata nell'offensiva psicologica di cui facevo riferimento, fu di rilievo non marginale l'intervento della Chiesa, sostenuta, spinta, alimentata dai servizi segreti più americano che italiano, il servizio italiano non aveva ancora particolari strumenti e particolare efficacia. Certo c'era e fece la sua parte, ma essenzialmente si trattò di questo. Quindi c'era già un humus che era sfavorevole. D'altro canto il risultato fu così evidente, la DC prese il 48% e qualcosa per cento, il blocco delle sinistre, e fu anche questo l'errore delle sinistre di fare una lista comune che fece perdere una bella fetta ai voti socialisti che andarono a premiare il PSL di Sara Gattaleato della DC. Fronte delle sinistre prese il 31%, lo stacco del 17% rifletteva poi una situazione reale, d'altro canto anche Togliatti, quando in qualche modo si espresse dopo, alla fine gli si è andata bene così perché in realtà non si aspettava un risultato anche migliore. Bene, grazie per averci chiarito questi punti. Quindi procediamo con una nuova domanda, professor Gantzer, per addentrarci un pochino più nel libro. Lei descrive gli Stati Uniti come una potenza senza scrupoli. Crede che questi Stati Uniti siano diversi dagli imperi del passato o ci sono delle connessioni che si possono fare? Sì, è vero che scrivo che l'impero americano è una potenza senza scrupoli, è proprio il titolo del mio libro, però mi sembra che anche altri imperi, per esempio la Spagna, quando ha cercato di controllare l'America del Sud quando l'Inghilterra ha cercato di controllare l'India o l'Australia, erano imperi senza scrupoli. Di solito c'è una situazione di violenza che un imperio utilizza per controllare una regione. Se guardiamo per esempio, gli americani hanno bombardato l'Afghanistan durante questi vent'anni che adesso sono passati e se noi cambiamo nella testa questi paesi, Afghanistan e gli Stati Uniti, se pensiamo per un momento solo che l'Afghanistan avrebbe bombardato gli Stati Uniti per vent'anni è una cosa che quasi non si può pensare. O se guardiamo nel 2003, gli americani insieme con l'Inghilterra hanno attaccato l'Iraq, hanno bombardato l'Iraq. E se facciamo anche lì il contrario, pensiamo che nel 2003 l'Iraq avrebbe attaccato gli Stati Uniti, anche lì è una grande sorpresa. o nel 2011 Obama, gli Stati Uniti hanno bombardato Libia con tanti altri paesi. Per me è proprio una politica senza scruccoli, dunque non si dice non possiamo attaccare per esempio Vietnam perché altrimenti il paese è in grande difficoltà dopo. Si fa queste cose per le ragioni imperialistiche che erano sempre il controllo di soldi e potere. dunque neanche una grande differenza tra l'imperialismo della Francia, della Spagna, del Portogallo o di altri paesi, solo che noi adesso siamo in una situazione nuova che proprio il mondo è diventato più piccolo, che c'è la comunicazione internazionale che è proprio diverso da 50 anni fa abbiamo le drones that can fly le drone, come si dice? Le drone che l'imperialismo dell'Inghilterra per esempio non aveva questo anche l'imperialismo di Olandia per esempio in Indonesia non avevano questi mezzi o anche il controllo della comunicazione attraverso Facebook e Twitter non era possibile per l'imperialismo francese in Africa per esempio. Dunque sì, tante parallele. Quali sono secondo lei i motivi che spingono gli Stati Uniti ad avere una politica estera così aggressiva? Questa è una buona domanda. Secondo me è molto importante fare la differenza tra la popolazione degli Stati Uniti e una popolazione che è di 330 milioni. Ho viaggiato negli Stati Uniti e questa gente non vuole fare la guerra contro l'Ira, contro il Vietnam o fare un colpo in Iran. Non è che si interessano di questo. sono, diciamo, come noi in Europa abbiamo delle cose nella famiglia, nel lavoro, nella casa che si interessano di più. E proprio il gruppo che fa quelle guerre è il presidente con la sua amministrazione, comunque con il Pentagono, con la CIA, con anche i gruppi industriali che hanno tanto influenza. E questo gruppo è un gruppo abbastanza piccolo. Non è che la popolazione americana vuole fare delle guerre. Però vediamo proprio che quel gruppo molto piccolo tutto in cima della struttura sociale americana, quel gruppo ha questo interesse di fare soldi e di avere potere. Sono questi due interessi che mi sembrano che sono sempre lì. E come si può avere più potere, come si può fare più soldi, questo ha sempre a che fare con il controllo internazionale. E per questo hanno fatto un colpo, per esempio, in Africa contro l'Umumba, nel Congo hanno fatto un colpo in Iran contro Mossadegh, hanno fatto un colpo in Cile nel 73 contro Allende e in Guatemala nel 54 contro Arbenz. E perché hanno cercato di fare questo? Per me è sempre l'idea che lo scrivo nel libro, che si cerca di avere influenza su altri paesi e questa influenza è sempre alla fine un profitto di controllare, di avere più soldi e più potere. Lo dico in una maniera semplice, però mi sembra questo. Sì, ora rivolgo magari una domanda che può andare bene ad entrambi, magari un punto di vista potete avere anche diverso. Sugli ultimi vicende con Cina e Taiwan, magari questo è interessante come gli Stati Uniti stanno agendo in questa situazione. Magari faccio prima rispondere Giannulli su questo punto e poi lei, professore. Innanzitutto una cosa, io imperi che abbiano scrupoli non ne conosco, nella storia non ne ho mai incontrato uno. Dei francesi abbiamo già detto, in Africa c'è un modo di dire, si dice, quando una persona è eccessivamente arrogante, insopportabile, odiosa, si dice arrogante come un francese in Africa. Beh, c'è proprio un significato. Il Reich tedesco non ne parliamo nemmeno. Gli inglesi, gli inglesi capirai, hanno fatto, nei limiti tecnologici consentiti dalla propria epoca, hanno fatto tutto quello che potevano fare. E così gli spagnoli, i portoghesi, ma mica nel Cinquecento. Ancora nel Novecento hanno fatto stragi indecenti in Angola, in Mozambico, in Guinea, soprattutto in Angola. Quindi da questo punto di vista facciamo prima a dire qual è un impero che ha avuto degli scrupoli. Quello. Tutti gli imperi hanno come idea fondativa il controllo della maggior sfera possibile di paesi più o meno contigui. L'Inghilterra ha avuto una proiezione come la Spagna pluricontinentale, un pochino anche il Portogallo, però meno esteso. Ma i russi, che non hanno avuto territori oltremare nel periodo zarista, hanno avuto lo stesso tipo di dinamica verso i paesi del Centro Asia e dell'Europa orientale. Dappertutto, come insegna Brodel, l'impero esporta lingua, moneta e diritto. Sono le tre prerogative dell'impero ed è quello che esattamente gli Stati Uniti stanno facendo. Ora, tu mi chiedi quale sia il grado di pericolosità dell'impero americano, se ho capito bene la domanda. È questa? Sì, è questa. Sì, sì, questa si è poi riferito poi a quelle ultime vicende ora più contemporanee a noi, ma quelle poi legate anche a Cina e a Taiwan. Ma guarda che paradossalmente questo dimostra che se fosse per le intenzioni gli Stati Uniti occuperebbero anche il suo e il mio condominio, per carità. Il problema è che invece questi esempi stanno dimostrando l'enorme inefficienza del sistema imperiale americano. Insomma, gli americani sono riusciti a stare vent'anni, dico venti anni, come dice giustamente Ganser, in Afghanistan a spendere 2.300 miliardi di dollari che è una cifra che non è mai stata spesa in nessun conflitto compreso il secondo conflitto mondiale o il Vietnam. Sono riuscito a fare tutto questo senza ottenere il becco di un risultato. Non solo non si ricordano particolari battaglie fra talebani e americani diciamo di entità ma la stragrande maggioranza delle vittime dell'intervento americano sono civili afghani. Non solo ma quando gli americani si sono ritirati una corsa rotta di collo cosa assolutamente contraria a ogni elementare etica militare hanno abbandonato le armi sul campo e i talebani che all'inizio della guerra più o meno contavano su circa 28.000 effettivi al momento della riconquista dell'Afghanistan c'erano 75.000 cioè avevano triplicato gli effettivi il tutto con una spesa di quelle dimensioni. Ora non ci vuole molto per capire che quella spesa si giustifica con valanghe di operazioni corruttive dal maggiore dei generali dello stato maggiore appunto fino all'ultimo capitano che fa la cresta sulle munizioni o su altro. Nel complesso quindi abbiamo un esercito beh qui tocca riprendere una frase del presidente Mao che forse non sbagliava in tutto quando diceva che l'imperialismo americano è un imperialismo di carta in che senso? Nel senso che ha un esercito potentissimo armatissimo equipaggiatissimo addestratissimo però poi riesce a essere sconfitto su tutta la linea da un piccolo paese come l'Afghanistan e anche in Iraq non è che i risultati ormai siamo prossimi al ritiro anche dall'Iraq siamo stati splendidi quindi sì se la mettiamo sul piano della volontà di aggressione per carità gli americani non hanno rivali e non c'è dubbio che fra americani e cinesi poi magari dirò qualcosa su Taiwan chi vuole lo scontro sono gli americani e chi invece non fosse altro che per convenienza intendiamoci non vuole nessuno scontro perlomeno in tempi medio-bredi sono i cinesi quindi sì dal punto di vista delle intenzioni dell'atteggiamento aggressivo non c'è dubbio che gli Stati Uniti sono il pericolo maggiore in questo momento però dal punto di vista operativo i risultati di queste operazioni non si raccomandano da soli dicono di un paese che ha un esercito sia ma soprattutto un esercito spendacione e infiltrato di corrotti di ogni tipo dopo magari dirò qualcosa su Taiwan non so se su questo giudizio è d'accordo Hanser sono d'accordo gli passiamo subito la parola ecco sono d'accordo con Aldo Giannulli che gli Stati Uniti sono il pericolo più grande nel mondo al momento però c'è anche questa decadenza che lui ha detto che le spese sono enorme però poi non si può vincere in Afghanistan dopo 20 anni nell'Iraq hanno ucciso un milione di persone e non c'è nessuna conseguenza sul livello di diritto internazionale dunque il presidente Bush che con il prime minister Blair ha cominciato la guerra contro l'Iraq loro sono liberi però Julian Assange che è proprio un giornalista coraggioso che ha parlato delle crimine nell'Iraq lui è a Londra adesso che noi parliamo qua lui è in carcere e questo è sempre molto difficile a spiegare alla gente perché perché quello che descrive le cose che vanno male nella guerra per esempio con quel video Collateral Murder che è proprio Julian Assange perché lui è in carcere e il Bush che ha cominciato la guerra è libero questo ha un giovanotto questo è difficile a spiegare e io dico sempre questa è la corruzione questo non ha niente a che fare con verità o giustizia dunque sono anche d'accordo con Aldo Giannulli che c'è ci sono veramente le spese incredibili su un livello anche le spese militari degli Stati Uniti se guardiamo oggi sono 770 miliardi ogni anno per la Cina sono 250 miliardi per la Russia per esempio sono 70 miliardi dunque gli americani con 770 miliardi sono il paese con le spese le più alte militare signor lei mi ha chiesto sul Taiwan e la CIA anche gli Stati Uniti la Cina e anche lì sono d'accordo con il signor Giannulli che non mi sembra che i cinesi cercano la confrontazione perché perché i cinesi ogni anno che passa diventano più forti è proprio così dunque l'interesso per loro è di avere un conflitto mai o il più tardi possibile mi sembra la situazione è un po' così e gli americani danno le armi al Taiwan e cercano di dire che questa isola è molto importante però se guardiamo nella storia si può proprio dire che questo è un altro attento degli Stati Uniti di to contain non so come si dice in italiano di contenere la Cina e questa è l'idea perché non possono attaccare Cina direttamente dunque la seconda idea comunque di un imperio è di contenere e dunque di avere soldati in Giappone di avere soldati nel Corea del Sud di avere diciamo un gruppo alleato in Taiwan anche di cercare di controllare il governo in Vietnam o in Myanmar tutto questo e l'idea del containment però spero proprio che non ci sarà una guerra tra la Cina e gli Stati Uniti non lo vedo questa guerra però vedo già che nei giornali tutti e due scrivono in un modo che non ha niente a che fare con una relazione pacifista piuttosto che si comincia a avere qua un nuovo confronto tra i due paesi più forti sul livello economico questo è evidente gli americani e i cinesi sul livello economico sono pari professor Giannulli vuole aggiungere qualcosa su Taiwan sì l'interesse degli americani per Taiwan è plurimo prima di tutto perché la Cina è circondata da una collana di isole di cui Taiwan è la maggiore che la tiene chiusa nei mari interni mar giallo mar cinese e mar del giappone senza accesso libero diretto all'oceano e quindi per la Cina è importante Taiwan per avere una base un porto che gli permetta avere un accesso non controllato al Pacifico gli americani oggi volendo gli basta chiudere lo stretto di Malacca e poche altre situazioni distretti e cioè per tenere la Cina recintata e quindi questo è il containment degli americani contro la Cina sul mare in questa maniera e sul territorio attraverso il bloccare le vie della seta in secondo luogo l'interesse è questo la TMC di Taiwan è il maggior produttore mondiale di semiconduttori il maggior produttore significa che produce da solo il 57% dei semiconduttori indispensabili per qualsiasi installazione di tipo dai telefonini ai computer ai computer di bordo sulle macchine alle paleoliche eccetera eccetera dove ci sia uso di elettronica e lì situazione che gli Stati Uniti fanno progettazione ma la produzione è quella delle factory nel mondo di cui le maggiori sono quelle la maggiore e quella taiwanese l'idea che la Cina che ha già il controllo della materia prima delle terre rare poi ci aggiunga anche il controllo della produzione di semiconduttori è una cosa che non sa dormire a notte il governo americano quindi è evidente l'interesse però attenzione la Cina che non rinuncia all'idea di una sola Cina che quindi quella è una provincia ora ribelle ma che prima o poi deve rientrare e ha spostato la deadline al centenario della rivoluzione cioè al 2049 che non è esattamente dopo domani sera io credo che comunque ci sia il problema che la popolazione di Taiwan non ne voglia sapere molto esattamente come quella di Hong Kong di entrare nel sistema cinese io al posto dei cinesi cercherei di essere più rassicurante possibile soprattutto di varare un'intesa economica più direggiata tra i due paesi ma in ogni caso non mi aspetto di aprire la televisione un giorno e sentire che le truppe cinesi sono sbarcate a Taiwan detto fra di noi ho l'impressione che questo sia l'auspicio degli americani agli americani farebbe piacere che questo accadesse per avere l'alibi e poter cominciare ad affrontare il nemico cinese sul campo di battaglia ma non credo che questo succederà perlomeno non in tempi brevi un brevissimo flash per il professor Ganze secondo lei quali saranno poi le mosse che in politica estera farà da qui a breve la nuova presidenza americana la nuova presidenza Biden secondo lei quale mosse effettuerà nello scacchiare internazionale proprio di Biden non mi aspetto tanto è un vecchio uomo che ha già bombardato la Siria che adesso fa la confrontazione in Ucraina c'è sempre della gente che pensa che Biden è un personaggio per la pace però non lo è al contrario se guardiamo Biden che è stato in politica per tantissimi anni si vede sulla sua vita che nel 99 Biden era proprio per il bombardimento di Serbia che era chiaramente illegale perché un paese non ha il diritto di bombardare un altro paese questa è la carta della of the United Nations the chart of the United Nations come si dice in italiano degli United United Nations come si farei le nazioni le nazioni hanno proibito che gli americani possano bombardare la Serbia però l'hanno fatto nel 99 e Biden era in favore anche Biden nel 2003 era in favore per l'attacco all'Iraq e Biden era nel 2014 era vicepresidente su presidente Obama quando gli americani hanno fatto il colpo in Ucraina però io non so se in Italia si parla del colpo americano in Ucraina perché tanti cioè in Germania in Svizzera non si parla proprio del colpo americano si dice c'era una crisi in Ucraina e tutto è il problema di Putin però io non sono d'accordo con questa analisi dunque a concludere di Biden non mi aspetto tanto invece mi sembra piuttosto tipo pericoloso può anche entrare in una guerra senza volere questo uomo però vedremo va bene va bene grazie grazie professore per quest'ultima risposta dunque noi abbiamo finito la nostra presentazione del libro ringrazio il professore D'Eleganza e il professor Aldo Giannuli che sono stati qui con noi ci salutiamo qui io vi ricordo che Sottosopra ritorna nel 2022 con la nuova edizione della scuola politica dove affronteremo questi e altri temi e seguite sui nostri canali per restare a giornale grazie a tutti e a presto grazie per l'intervista buona serata grazie a lei grazie a lei grazie a lei ancora professore grazie a lei grazie a lei